Questa vettura principalmente è una Yaris, un modello che ha fatto la sua di Toyota in Italia ed è una full hybrid, in piena tradizione Toyota, ovvero combina un motore elettrico abbastanza potente da poter andare in modalità esclusivamente elettrica con un motore termico ed è finalizzata a cercare sempre la massima efficienza nella combinazione tra l'attività di questi due propulsori. Quindi è una Toyota, è una Yaris ed è un ibrido. Noi abbiamo dichiarato già da tempo che nella nostra strategia c'è quello di arrivare a vendere almeno un milione di vetture ibride l'anno. Ne abbiamo già messe 4 milioni su strada in 14 anni, quindi abbiamo anche realizzato un'esperienza importante in termini di affidabilità. Noi la lanceremo in Italia a settembre e per quanto riguarda il prezzo abbiamo deciso di posizionarla nella versione longe, che è la versione d'entrata, quella più equipaggiata è sostanzialmente in linea con la nostra offerta diesel 1.4 Common Rail. La nuova Yaris Hybrid rappresenta una significativa innovazione nel campo delle trasmissioni full hybrid. Il sistema Hybrid Synergy Drive è stato messo a punto in modo specifico per il design estremamente compatto di Yaris, senza però compromettere le prestazioni del sistema e senza sacrificare il comfort dei passeggeri o lo spazio di carico. Il downsizing del sistema full hybrid è stato ottenuto grazie ad un nuovo motore benzina 1.5, affiancato da un motore elettrico, un differenziale, un inverter e una batteria più leggeri e compatti. Nel complesso, il sistema ha un peso inferiore rispetto a quello dell'Auris Hybrid. Il motore termico è affiancato da un motore elettrico, capace di incrementare la potenza totale e l'accelerazione. Il motore elettrico è stato reso più piccolo grazie all'ottimizzazione del materiale magnetico e all'avvolgimento delle bobine con cavi dalla forma appiattita anziché rotonda. Tutto questo è servito anche ad incrementare l'autonomia di guida in modalità a zero emissioni. La trasmissione è stata disegnata infatti per un funzionamento estremamente efficiente, riducendo la necessità di attivare frequentemente il motore termico. Dai dati raccolti nei test effettuati su diverse tipologie di percorso, è stato possibile rilevare come la trasmissione Full Hybrid consenta di massimizzare l'impiego della modalità zero emissioni. La batteria al nickel idruro metallo più piccola dispone di un numero di celle ridotto, passato da 168 a 120, consentendo al sistema di gestire l'energia in maniera ancora più efficiente. Questo è stato reso possibile grazie all'installazione del pacco batterie interamente sotto i sedili posteriori, mantenendo allo stesso tempo lo stesso spazio nel bagagliaio, pari a quello del modello convenzionale. La nuova Yaris Hybrid rappresenta il miglior bilanciamento possibile tra prestazioni, consumi ed emissioni di CO2 presente oggi nel segmento B, capace di garantire ai clienti benefici tangibili. Grazie a tutti!